Emorragia lenta ma inesorabile nel piccolo commercio a Ragusa, quello che interessa in particolare i negozi ed esercenti che quotidianamente subiscono i morsi di una crisi lontana dall'attenuarsi. Per la locale Ascom, proprio nel centro storico, la situazione è ormai oltre i livelli di guardia perché per un negozio che apre ci sono in media tre negozi che chiudono l'attività. In periferia poi, sempre secondo l'Ascom, il problema è meno visibile ma è comunque presente e sta farcidiando soprattutto i piccoli negozi che si vedono costretti con all'aggravarsi di tasse balzelli vari a calare per sempre le saracinesche. Il motivo è semplice, la gente non ha i soldi per spendere come una volta e quindi senza tante elucubrazioni economiche è facilmente spiegabile questo circolo vizioso che finisce alla fine per penalizzare l'intera comunità. Per la situazione commercianti ragusana bisogna intanto affrontare il problema partendo a livello nazionale, ossia creare le condizioni affinché la gente possa riacquistare intanto il lavoro e quindi la possibilità di spesa evitando che vada tutta assorbita dalle bollette delle tasse, quindi lavoro come fattore primario per ripartire e rimettere in circuito il denaro. Soldi che la maggior parte dei ragusani oggi spende naturalmente nelle bancarelle o tra i venditori ambulanti in giro per la città. Pochi euro e in tanti possono acquistare abiti, ad esempio non certo di prima scelta ma comunque necessari alla luce dei tempi che si stanno vivendo.